In questo tutorial vediamo degli esempi di disequazioni di secondo grado nel caso in cui l'equazione associata ha discriminante nullo. Partiamo da questo primo esempio. Come prima cosa controllo che la disequazione di secondo grado sia scritta in forma canonica e il coefficiente di x quadro risulti positivo? Dopo aver fatto questo controllo passiamo all'equazione associata e andiamo a determinare le soluzioni x alla seconda meno x più un quarto uguale zero. Per determinare le soluzioni di questa equazione posso applicare la formula risolutiva e scrivere x uguale meno b, b è pari a meno 1 e allora scrivo 1 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 1 alla seconda ottengo 1 e poi meno 4 per 1 per un quarto è pari a meno 1. Tutto quanto fratto 2a? A è pari a meno 1 e allora scrivo fratto 2. 1 meno 1 è pari a 0 quindi cancello e scrivo 0. Quello che resta è un mezzo. Avendo ottenuto una sola soluzione questo vuol dire che la parabola associata all'equazione ha in comune con l'asse delle x un sol punto la cui ascissa risulta essere pari a un mezzo. Effettuo ora lo studio del segno della parabola. Per valori minori di un mezzo e per valori maggiori di un mezzo la parabola è al di sopra dell'asse delle x e allora metto un più. In corrispondenza di un mezzo metto un uguale a 0 per indicare che l'ordinata della parabola è nulla. Ora torno alla disequazione e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità risulta essere maggiore uguale a 0. Nello studio del segno il maggiore di 0 lo vedo per valori minori di un mezzo e per valori maggiori di un mezzo. L'uguale a 0 lo vedo in corrispondenza di un mezzo e allora visto che prendo tutto come risposta scrivo r. Passiamo a questo secondo esempio. Come prima cosa controllo che la disequazione è scritta in forma canonica e il coefficiente di x quadro risulti essere positivo. A questo punto passa l'equazione associata. 4 x alla seconda meno 12x più 9 uguale 0. Per determinare ora le soluzioni dell'equazione applico la formula risolutiva x uguale meno b ossia 12 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 12 alla seconda è pari a 144 e poi meno 4 per 4 per 9 è pari a meno 144. Tutto quanto fratto 2a. a è pari a 2 e allora scrivo fratto 8. 144 meno 144 è pari a 0. Cancello e scrivo 0. Vado avanti. quello che resta è 12 ottavi. Posso semplificare ora in verticale. 12 diviso 4 ottengo 3. 8 diviso 4 ottengo 2. Sia così x uguale 3 mezzi. Avendo ottenuto una sola soluzione la parabola associata all'equazione ha in comune con l'asse delle x un sol punto la cui ascissa è pari a 3 mezzi. Effetto ora lo studio del segno della parabola. Per valori minori di 3 mezzi e per valori maggiori di 3 mezzi la parabola è al di sopra dell'asse delle x e allora metto un più. In corrispondenza di 3 mezzi metto un uguale a 0 per indicare che l'ordinata della parabola è nulla. Ora torno alla disequazione e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore uguale a 0. Nello studio del segno il segno meno non lo vedo mai. Vedo soltanto l'uguale a 0 e questo accade in corrispondenza di 3 mezzi e allora la soluzione di questa disequazione è composta da soltanto un valore x uguale 3 mezzi. Vediamo questo terzo esempio. La disequazione è scritta in forma canonica ed osservo che il coefficiente di x quadro risulta essere negativo e allora moltiplico tutte e due membri per meno 1. 9x alla seconda meno 12x più 4 e da minore uguale passo a maggiore uguale di 0. Passo ora l'equazione associata 9x alla seconda meno 12x più 4 uguale 0. Applico la formula risolutiva per determinare le soluzioni dell'equazione. Meno b ossia meno meno 12 e scrivo 12 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 12 alla seconda è pari a 144 e poi meno 4 per 9 per 4 è pari a meno 144. Tutto quanto fratto 2a. A è pari a 9 e allora scrivo fratto 18. Sotto radice 144 meno 144 è pari a 0 e allora cancello e scrivo 0. Quello che resta è 12 fratto 18. Posso ora semplificare in verticale. 12 diviso 6 ottengo 2. 18 diviso 6 ottengo 3. Ottengo così 2 terzi. Avendo ottenuto una sola soluzione questo vuol dire che la parabola associata all'equazione tocca l'asse delle x in un sol punto la cui ascissa è pari a 2 terzi. Effettuo ora lo studio del segno della parabola per valori minori di 2 terzi e per valori maggiori di 2 terzi la parabola è al di sopra dell'asse delle x e allora metto un più. In corrispondenza di 2 terzi metto un uguale a 0 per indicare che l'ordinata della parabola è nulla. Ora torno alla disequazione che precede l'equazione associata, ossia fisso l'attenzione su questo passaggio e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore o uguale a 0. Nello studio del segno il maggiore di 0 lo vedo prima di 2 terzi e dopo di 2 terzi, l'uguale a 0 in corrispondenza di 2 terzi. Visto che sto prendendo tutti i valori reali, allora come risposta scrivo r. Vediamo questo quarto esempio. Osservo che il coefficiente di x quadro risulta essere negativo e allora moltiplico tutte e due membri per meno 1. Riscrivo in ordine x quadro poi meno 2x più 1 e da minore scrivo maggiore di 0. passo ora all'equazione associata x alla seconda meno 2x più 1 uguale 0 ed applico la formula risolutiva meno b ossia meno meno 2 scrivo 2 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 2 alla seconda ottengo 4 e poi meno 4 per 1 per 1 ottengo meno 4 tutto quanto fratto 2a. e quindi scrivo 2. 4 meno 4 è pari a 0, cancello e scrivo 0. Quello che resta è 2 fratto 2. Semplificando si ottiene 1. Avendo ottenuto una sola soluzione, questo significa che la parabola associata all'equazione tocca l'asse delle x in un sol punto, la cui ascissa è pari a 1. Effettuo ora lo studio del segno della parabola. Per valori minori di 1 e per valori maggiori di 1 la parabola è al di sopra dell'asse delle x e allora metto un più. In corrispondenza di 1 metto un uguale a 0 per indicare che l'ordinata della parabola è nulla. Torno ora alla disequazione che precede l'equazione associata, ossia fisso l'attenzione su questo passaggio e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore di 0. Nello studio del segno il maggiore di 0 lo vedo per valori minori di 1 e per valori maggiori di 1 e allora come risposta scrivo r meno 1. Passiamo a questo quinto esempio. Come prima cosa osservo che la disequazione è scritta in forma canonica e il coefficiente di x quadro è positivo. Passo allora all'equazione associata x alla seconda meno 2 radice di 2x più 2 uguale 0. Applico ora la formula risolutiva x uguale meno b e scrivo 2 radice di 2 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 2 radice di 2 alla seconda risulta essere pari a 8 e e poi meno 4 per 1 per 2 ottengo meno 8. Tutto quanto fratto 2a. a è pari a 1 e allora scrivo fratto 2. 8 meno 8 è pari a 0. Cancello e scrivo 0. Quello che resta è 2 radice di 2 fratto 2. semplifico in verticale 2 con 2 e si ottiene radice di 2. Avendo ottenuto una sola soluzione la parabola associata all'equazione tocca l'asse delle x in un sol punto la cui è scissa è pari a radice di 2. Effettuo ora lo studio del segno della parabola. Prima di radice di 2 e dopo radice di 2 metto un più. La parabola è al di sopra dell'asse delle x. In corrispondenza di radice di 2 metto un uguale a 0 per indicare che l'ordinata della parabola è nulla. Torno ora alla disequazione e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore di 0. Nello studio del segno il minore di 0 non lo vedo mai e allora come risposta scrivo impossibile. Passiamo a quest'altro esempio. La disequazione è scritta in forma canonica. Il coefficiente di x quadro è positivo e allora passa all'equazione associata. x alla seconda meno 6x più 9 uguale 0. Applico ora la formula risolutiva. x uguale meno b ossia 6 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 6 alla seconda è pari a 36 e poi meno 4 per 1 per 9 ottengo meno 36. Tutto quanto fratto 2a. a è pari a 1 e allora scrivo fratto 2. 36 meno 36 è 0 e allora cancello e scrivo 0. Quello che resta è 6 fratto 2, ossia 3. Questo significa che la parabola associata all'equazione tocca l'asse delle x in un sol punto la cui ascissa è pari a 3. Effettuo ora lo studio del segno della parabola. Prima di 3 e dopo di 3 metto un più, la parabola è al di sopra dell'asse delle x. In corrispondenza di 3 metto un uguale a 0 per indicare che l'ordinata della parabola è nulla. Torno ora alla disequazione e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore uguale a 0. Nello studio del segno il minore di 0 non lo vedo mai. L'uguale a 0 lo vedo in corrispondenza di 3 e allora questa disequazione risulta essere verificata in un sol valore in corrispondenza di x pari a 3. Vediamo questo settimo esempio. Osservo che il coefficiente di x quadro è negativo. Moltiplico allora tutte e due membri per meno 1. x alla seconda meno 4x più 4 e da minore passo a maggiore di 0. Ora scrivo l'equazione associata. x alla seconda meno 4x più 4 uguale 0. Applico la formula risolutiva. meno b ossia 4 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 4 alla seconda ottengo 16 e poi meno 4x1x4 ottengo meno 16 tutto quanto fratto 2a ossia fratto 2. 16 meno 16 è pari a 0. Cancello e scrivo 0. Quello che resta è 4 fratto 2 ossia 2. Avendo ottenuto una sola soluzione la parabola associata all'equazione tocca l'asse delle x in un sol punto di ascissa pari a 2. Effettuo ora lo studio del segno della parabola. Per valori minori di 2 e per valori maggiori di 2 la parabola è al di sopra dell'asse delle x e allora metto un più. In corrispondenza di 2 metto un uguale a 0 perché per indicare che l'ordinata della parabola è nulla. Torno ora alla disequazione che precede l'equazione associata ossia affisso l'attenzione su questo passaggio e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore di 0. Nello studio del segno il maggiore di 0 lo vedo per valori minori di 2 e per valori maggiori di 2 e allora come risposta scrivo r meno 2. Passiamo a questo ottavo esempio. La disequazione è scritta in forma canonica. Il coefficiente di x quadro è positivo e allora passa all'equazione associata. x alla seconda meno 2 radice di 3x più 3 uguale 0. applico la formula risolutiva. Meno b, ossia 2 radice di 3 più o meno radice quadrata di b alla seconda. 2 per 2 è 4, radice di 3 alla seconda è 3 e quindi 4 per 3 ottengo 12 e poi meno 4 per 1 per 3 ottengo meno 12 tutto quanto fratto 2. 12 meno 12 è pari a 0. Cancello e scrivo 0. Quello che resta è 2 radice di 3 fratto 2. semplifico 2 con 2 e si ottiene radice di 3. Avendo ottenuto una sola soluzione la parabola associata all'equazione tocca l'asse delle x in un sol punto la cui ascissa è pari a radice di 3. Effettuo ora lo studio del segno della parabola. Prima di radice di 3 e dopo radice di 3 metto un più in corrispondenza di radice di 3 metto un uguale a 0. Torno ora alla disequazione e vado a vedere qual è la domanda. Mi vieni chiesto quando questa quantità è maggiore di 0. Nello studio del segno il maggiore di 0 lo vedo per valori minori di radice di 3 e per valori maggiori di radice di 3 e allora come risposta scrivo r meno radice di 3. vediamo questo non esempio. Osservo che la disequazione non è scritta in forma canonica. Porto questo termine a primo membro 2x alla seconda meno 2 radice di 2x più 1 minore di 0. Ora passa all'equazione associata 2x alla seconda meno 2 radice di 2x più 1 uguale 0. Applico ora la formula risolutiva. x uguale meno b ossia 2 radice di 2 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 2 alla seconda è pari a 4 radice di 2 alla seconda meno 2. 4 per 2 ed ottengo 8 e poi meno 4 per 2 per 1 ottengo meno 8. Tutto quanto fratto 2a. a è pari a 2 e allora scrivo fratto 4. 8 meno 8 è 0. Cancello e scrivo 0. Quello che resta è 2 radice di 2 fratto 4. Semplifico in verticale. 2 diviso 2 è 1, 4 diviso 2 è 2. Quello che si ottiene è radice di 2 su 2. Avendo ottenuto una sola soluzione, la parabola associata all'equazione taglia l'asse delle x in un sol punto di ascissa radice di 2 fratto 2. Effettuo lo studio del segno. Prima di radice di 2 su 2 e dopo radice di 2 su 2 metto un più. La parabola è il di sopra dell'asse delle x. In corrispondenza di radice di 2 su 2 metto un uguale a 0. Torno ora alla disequazione che precede l'equazione associata, ossia fisso la tensione su questo passaggio. Vedo qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore di 0. Nello studio del segno il minore di 0 non lo vedo mai e allora come risposta scrivo impossibile. Vediamo quest'ultimo esempio. Osservo che la disequazione non è scritta in forma canonica e allora porto meno 1 a primo membro e scrivo 4x alla seconda meno 4x più 1 maggiore di 0. Passo ora all'equazione associata 4x alla seconda meno 4x più 1 uguale 0 ed ora applico la formula risolutiva meno b ossia meno meno 4 e scrivo 4 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 4 alla seconda meno 4 per 4 per 1. Tutto quanto fratto 2a. a è pari a 4 e allora scrivo fratto 8. 16 meno 16 è 0 cancello e scrivo 0. Quello che resta è 4 ottavi. Semplificando si ottiene un mezzo. Avendo ottenuto una sola soluzione la parabola associata all'equazione tocca l'asse delle x in un punto di ascissa pari a un mezzo. Ora effettuo lo studio del segno della parabola. Per valori minori di un mezzo e per valori maggiori di un mezzo metto un più. La parabola è al di sopra dell'asse delle x. In corrispondenza di un mezzo metto un uguale a 0. Ora torno alla disequazione che precede l'equazione associata, ossia fisso l'attenzione su questo passaggio e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore di 0. Nello studio del segno il maggiore di 0 lo vedo per valori minori di un mezzo e per valori maggiori di un mezzo. E allora come risposta scrivo r meno un mezzo. E con questo termino il tutorial su esempi di disequazioni di secondo grado nel caso in cui l'equazione associata ha discriminante nullo.